di suzuka un classico molto apprezzato ed è giorno di gara questo tracciato è stato teatro di gran premi eccezionali di formula 1 speriamo che quello di oggi sia uno di questi mancano pochi istanti all'inizio della gara diamo un'occhiata all'ordine di partenza oggi ci serve almeno il quindicesimo posto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti c'è erizzoli davanti prova superato grazie a tutti 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 grazie a tutti